Alle nostre spalle l'auto presidenziale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è arrivato puntualissimo, anzi ancora prima delle 17, qualche minuto prima, è atterrato all'aeroporto di Preturo per raggiungere poi con l'automobile il centro storico Via Verdi in particolare dove si trova il ridotto del teatro comunale, ingenti ovviamente le misure di sicurezza per accogliere la dodicesima visita in Abruzzo e l'ottava all'Aquila del Capo dello Stato per partecipare all'Assemblea Nazionale delle Provincie Italiane Città blindata da ore prima del suo arrivo e strade limitrofe al centro storico chiuse il Presidente è atterrato all'aeroporto di Preturo prima di raggiungere in macchina Via Verdi il ridotto del teatro comunale, molto partecipata l'Assemblea Nazionale delle Provincie Italiane qualche cittadino fuori in Via Verdi ad aspettarlo, del resto i temi dell'Assemblea erano di grande interesse un'occasione unica per confrontarsi con le istituzioni rappresentanti del Governo Nazionale il Presidente del Lupi Michele De Pascale davanti al Presidente della Repubblica ha tenuto la sua relazione tante le tematiche sul piatto, PNRR, stato di attuazione dei progetti ma soprattutto la riforma il ruolo che la provincia vorrebbe tornare ad avere di maggiore autonomia La scelta dell'Aquida è una scelta importante, la provincia dell'Aquida è una delle principali province italiane capoluogo di regione, per le province è un momento molto importante siamo in attesa di parole chiare da parte del Governo sul processo di riforma stiamo attuando una parte significativa del PNRR e anche la rivendicazione di tanti territori italiani di provincia che pretendono rispetto e pretendono di essere considerati a tutti i livelli istituzionali Sì, è un fatto storico, l'Unione delle Provincie esiste dal 1908, ha attraversato anche momenti diciamo di non grande splendore e da anni che abbiamo lavorato per recuperare centralità per ridare ruolo al sistema delle province, oggi la presenza del Presidente della Repubblica per noi è il regalo più bello che potessimo ricevere Il Presidente Mattarella ha poi chiuso i lavori dell'Assemblea prima di ripartire poco prima delle 18, salutando con la sua consueta cortesia la gente e anche la stampa nel suo intervento applauditissimo ha parlato del ruolo importante e strategico delle province e della nuova stagione che devono apprestarsi a vivere le norme attualmente in vigore, ha detto il Presidente, che disegnano strutture e ambiti delle province sono legate a una transizione interrotta e anche per questo, indipendentemente dai giudizi sul merito del percorso allora ipotizzato, giudizi che io non possa esprimere creano vuote incertezze che non possono prolungarsi rischiando che cittadini e comunità paghino il prezzo di servizi inadeguati, di competenze incerte di lacune nelle funzioni di indirizzo e coordinamento la Costituzione richiede di essere attuata questo uno dei passaggi più significativi del suo intervento la Costituzione richiede di sicuramente la Costituzione richiede di sicuramente questo è possibile che non sia un viaggio il rischio per il rischio si rischi che non sia un viaggio